E' buono il segnale con Ducky Jet che si porta a condurre, è in seguito da Danny Pan, Denis Doria al mail sulla piegata, Ducky Jet e Danny Pan precedono Denis Doria al mail e quindi più indietro c'è stato un cavallo addirittura che non ha girato, il numero 7 di Lankris e quindi è il numero 6 Dama di Corte che chiude il quartetto dopo i primi 400 metri, completati in 31 e 9, intanto cavalli sulla piegata, non cambia nulla tatticamente, tutti in fine indiana, alle spalle di Ducky Jet, favorito Alessandro Gossadoro, cavallo fin qui imbattuto, ricordiamo, in seconda posizione rimane Danny Pan davanti a Denis Doria al mail e a Dama di Corte, gli 800 se ne vanno in 1,3 e 6, un secondo quarto in 31,7 per il Battistrada che può tranquillamente completare un chilometro, un approccio molto blando, da 1,20 scarso, 1,19,6 per l'esattezza, in vantaggio Ducky Jet, seconda posizione per Danny Pan, poi Denis Doria al mail che precede Dama di Corte e a un giro dalla conclusione il quartetto procede sempre in fila indiana, nessuno a muovere all'esterno ma a questo punto il leader comincerà ad accelerare, c'è stato un quarto in 31 dopo un parziale in 15 e ora a 600 dalla conclusione, 15,5 ancora per Ducky Jet che è sempre in schiena Danny Pan, Denis Doria al mail e Dama di Corte in un ordine che non cambia nemmeno a 500 scarsi dalla conclusione, il leader infatti accelera, parziale ora in 14,7, sempre Ducky Jet su Danny Pan, Denis Doria al mail, Dama di Corte, completamento della curva finale, quando sposta Denis Doria al mail dalla terza posizione, Ducky Jet è in evidenza a 120 dalla conclusione, c'è l'errore di Danny Pan e così Ducky Jet può continuare la sua serie vincente e la quinta a seguire, secondo posto per Denis Doria al mail, al terzo la supestite Dama di Corte che chiude il marcatore, 1,16,6,14,1 e 28,8 per gli ultimi 200 e 400 metri, continua così in suite vittoriosa Ducky Jet, 5 su 5 per l'allievo di Alessandro Gocciadoro in sediolo e al training, non è bastato neppure lo scontro prima della corsa con Desiree Ors poi ritirato, a fargli perdere la concentrazione e Ducky Jet davvero si è dimostrato un cavallo eccezionale anche in questo frangente, l'allievo di Alessandro Gocciadoro di proprietà di Sined Cernicoli vince largamente, secondo posto per Denis Doria al mail di Sined Cernicoli vince